Ben ritrovati, un saluto a tutti, questa giornata purtroppo particolare, brutta, difficile per quello che sta accadendo nel mondo stiamo seguendo tutti con grande apprensione e credo dispiacere quello che sta accadendo e dispiace tantissimo io sinceramente pensavo di non vivere più in quest'epoca moderna una vicenda del genere che non voglio neanche nominare sul nostro canale perché magari viene seguito anche da più piccolini ecco e quindi un grande abbraccio a quelle popolazioni e ci sono poche parole davvero per commentare il tutto cerchiamo di isolarci per qualche minuto rispetto a quello che sta accadendo e pensiamo al calcio che è il nostro pane quotidiano qui sul nostro canale, vi invito a iscrivervi se non avete ancora fatto sul logo AL e a lasciare se vi va un like qui sotto parliamo in questo caso di Inter, clamoroso in casa Inter, Inter che sappiamo non sta vivendo un momento positivo soltanto un punto nelle ultime tre partite, riduce della sconfitta con il Sassuolo ma potenzialmente ancora prima in classifica perché ha una gara in meno con i tre punti eventuali con il Bologna scavalcherebbe il Milan, andrebbe a più uno però è un campionato sicuramente molto aperto, più che mai aperto, si parla però già di mercato negli ultimi giorni sono circolate diverse indiscrezioni che oggi sono diventate ancora più rumorose sulla clamorosa volontà di Romelu Lukaku di tornare all'Inter giocatore che con lo United non sta facendo bene, sapete che già si è risposto a Natale con quella dichiarazione che aveva fatto molto arrabbiare il Chelsea e comunque neanche conquistato totalmente i tifosi dell'Inter che avevano detto insomma ti arrangi. Lui quest'anno ha fatto 17 presenze e 5 gol e 1 assist in Premier 4 presenze, 2 gol e 1 assist in Champions con in totale partite da titolare in Premier League sulle 26 giocate 12 quindi meno della metà. Addirittura in una delle ultime partite aveva toccato soltanto nel primo tempo non aveva toccato palloni mi sembra, anzi nel primo tempo aveva toccato soltanto un pallone a parte quello del fischio d'inizio, qualcosa del genere davvero un corpo estraneo si è pentito e ora bussa alle porte di casa Intra attraverso il suo procuratore Pastorello per tornare in Erazzurro, operazione che avrebbe sicuramente i contorni del clamoroso la sua volontà di tornare è evidente, la fattibilità è però un po' più complicata intanto lui sembra sia disposto a ridursi l'ingaggio, dai 7 e mezzo dell'Inter è passato a prendere 12 però dai 12 deve scendere, sembra se lo voglia tagliare questo ingaggio ma l'Inter non credo che possa dargliene 10, probabilmente neanche 9 dovrebbe tornare ai livelli di prima intorno ai 7 milioni e mezzo, 8 quindi rinunciare a una parte cospicua del suo attuale ingaggio e questo sicuramente sarebbe una testimonianza in più della sua volontà di tornare di cospargersi il capo di Ceneri dall'altra parte però, se mai lui dovesse rinunciare a così tanti soldi l'operazione come si fa, visto che è stato pagato oltre 110-115 milioni di euro l'Inter non può andare a pagarlo 100 milioni di prezzo per cui è a bilancio oggi l'unico incastro possibile sarebbe quello di un Chelsea che dice all'Inter o accetta la proposta dell'Inter, cioè prestito te lo do in prestito, magari prestito un po' oneroso però capiamo che l'operazione diventa complicata a livello di immagine un osso duro come la Granoskaya che sappiamo ad esempio con il Milan ha fatto pagare ha fatto penare per avere un milione di euro su Giroud e anche per il prestito su Bakayoko mesi, mesi, mesi a livello di immagine per una come la Granoskaya e in generale un club come il Chelsea di Abramovic rispedire un giocatore che hai preso, strapagato un anno dopo in prestito al club che te l'ha comprato non è il massimo era successa una cosa simile ai tempi con Sheva ma non subito dopo qualche anno in questo caso mi sembra tutto molto improbabile anche perché poi loro sono molto irritati con Lukaku per quella dichiarazione che lui ha fatto a Natale sono molto seccati e quindi non credo che vorranno dargli una sorta di paracadute per accontentarlo e catapultarlo dove lui vuole farlo arrivare dove lui vuole dall'altra parte però se lo tengono lì come corpo estraneo anche questo non è controproducente ragionando insieme a voce alta uno come Lukaku se va sul mercato può interessare a tanti club però in Italia credo soltanto eventualmente c'è l'ipotesi Inter seppur non facile può interessare ai club della Liga può interessare di fatto anche altri club della Premier su tutti ce n'è uno quel Tottenham di Conte Antonio Conte sappiamo è il principale stimatore di Lukaku che c'è nel mondo è il principale valorizzatore di Lukaku che c'è nel mondo dopodiché di creazione di poche ore fa c'è già maretta pure tra Conte e il Tottenham per dichiarazioni, risultati, mercato e lui stesso ha detto dovrò parlare con la società per capire forse non sono la persona più adatta quindi è un'incognita resterà ancora lì o ancora una volta interromperà la sua avventura in un club a pochi mesi dal suo arrivo ci sono tanti incastri se alla fine Lukaku non va altrove non ci sono offerte importanti in Europa io credo che però qualche club europeo si possa anche interessare ad esempio se Reale e Barca vogliono Holland dove non va Holland può andare può andare Lukaku che può interessare anche al PSG potenzialmente detto questo oppure l'altra carta possibile per l'Inter è caro Chelsea ti do Lautaro Martinez facciamo uno scambio alla pari con Lautaro Martinez e io mi prendo Lukaku che però mi deve accettare un ingaggio alla Lukaku di prima cioè appunto 7 milioni e mezzo secondo me ecco ci siamo arrivati un po' di più questa può essere l'unica formula possibile ma anche un po' complicata perché a quel punto Chelsea dovrebbe dovrebbe dare una valutazione di Lautaro Martinez sui 100 milioni di euro sui 95 per quello che sta facendo quest'anno o meglio che non sta facendo mi sembra eccessiva Lautaro Martinez è in crisi di gol in Italia ma pensate nell'attuale Champions League in 7 partite ha fatto 0 gol nella scorsa ha fatto credo soltanto una rete quindi è uno che fa benissimo in Argentina ma a livello europeo probabilmente non ha ancora raggiunto quel livello di valutazione che vorrebbe vedere per lui l'Inter quindi situazione un po' complicata ma è clamorosa la vicenda Lukaku lui vuole tornare sta facendo di tutto per tornare riuscirà a trovare l'incastro giusto oppure no questo lo scopriremo voi che sensazione avete tifosi di qualsiasi squadra maggior ragione anche gli interisti lo rivorreste oppure no e tifosi di altre squadre nei panni degli interisti lo vorreste sì oppure no scrivetelo qui sotto nei commenti vi invito a lasciare un like iscrivete numerosi sul logo AL tutto il calcio qui tutto 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 il calcio un abbraccio ancora a quella popolazione che vive un momento negativo che però potrebbe riguardare anche altri un abbraccio grazie a tutti